Gruppo Interforza e Polizia per il controllo del territorio provinciale. Nell'ottica di un servizio coordinato sul territorio, gli agenti della Polizia di Stato, coordinati anche dalle altre forze dell'ordine nel corso della scorsa settimana, hanno eseguito controlli straordinari del territorio, finalizzati in particolare a colpire le piazze dello spazio e a prevenire ogni forma di reato. I controlli che hanno interessato tutta la provincia, soprattutto durante il fine settimana, sono stati finalizzati anche al rispetto delle vigenti misure in materia di contenimento sanitario al fine di limitare la diffusione del virus Covid-19. In questo contesto, durante il quale sono stati controllati complessivamente circa 200 persone e 400 veicoli, ad Augusto è stato denunciato un giovane di 19 anni che non si è fermato all'Alt di Polizia e cercando di sottrarsi al controllo ha guidato in modo pericoloso mettendo in pericolo l'incolumità altrui e a Priolo, sempre durante un controllo su strato, un uomo di 48 anni è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere perché è trovato in possesso di un coltello a serramanico e per la reiterazione della guida senza patente. Infine, quattro stranieri inottemperanti all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale sono stati denunciati e intimati a lasciare il territorio nazionale entro sette giorni dalla notifica.